Ciao sono Magnus e ritorniamo sempre qui su Dragon Age da Vergara abbiamo incontrato Bellara incontrato sembrava che la dovessimo cercare e spuntata così all'improvviso ma niente ci ha parlato per la questione del manufatto che sembra in grado di aggiustarlo o meglio ripararlo comunque abbiamo due punti abilità abbiamo praticamente possiamo ottenere questo però è un po' un casino sinceramente vi dico questo a me intriga più questa abilità che penso che sia quella che possiamo optare urto del titano direi di ottenerla ci abbiamo un altro punto di qua e poi basta resistenza fisica più 10 per cento che secondo me non è male non è male per il resto dobbiamo parlare con bellara dobbiamo aprire anche questo arco lungo per bellara ma qui di bellara ce la portiamo appresso per per un sacco di tempo tra l'altro ho anche cambiato è l'arma si bella che pensavo che bellara fosse una così invece no tra l'altro poi ho visto che si può anche sì in equipaggiamento l'ha cambiata si sì in equipaggiamento l'ha cambiata si in equipaggiamento l'ha cambiata si in equipaggiamento l'ha cambiata sì in equipaggiamento l'ha cambiata si in equipaggiamento l'ha cambiata si in equipaggiamento l'ha cambiata sì in equipaggiamento l'ha cambiata si in equipaggiamento l'ha cambiata si in equipaggiamento l'ha cambiata da hell melva never reported back from the meters crossing there are a hundred people living in that village or near enough you're back and you're alive good sounds like things have gotten a lot worse since we left darkspawn they're showing up all over alleth and attacking A presto C'è qualcosa che l'embrano. Lo so, ma magari... se troviamo loro. Ci troviamo i dottori, o almeno qualche signo di dove potrebbe essere. Ma Arleth and Forrest è enorme. C'è dove stiamo cercando loro? D'Ametta's Crossing. What? Irlin and Strife. Quando siamo arrivati, tu dicevi che hai perduto il D'Ametta's Crossing. Possiamo andare a cercare. Ci tre di noi, per me. D'Ametta's Crossing is on the far side of the lake. C'è una piccola boat at the docks. It'll take you there. Watch your back out there, and good luck. Ma, quindi resterà sempre tutta macchiata. Cioè, non... Incarico completato nella morsa dell'entropia. Volevo capire... Nell'area, aggiornamento del codice, forza più cento... Accampamento del capo di del velo, viaggio verso sblocchiato. Perfetto. Ci sono un po' di abilità da fare, ma la cosa fondamentale era... Noi, in un certo senso, abbiamo sblocchiato anche un'altra abilità, che tra l'altro poi si è anche già posizionata. E anche quest'altra si è già posizionata. Pugni incessanti. Ok, ma questa è quella che si riempie. Va bene. Uno del titano. Va bene. Già si è messa. Volevo dare un po' di sguadro. Aggiungi il crocevia meta. Però, questo qua... È un mercante. Acquista e vendi gli oggetti di valore. Ok, possiamo vedere. Ok. Splendore. Questa roba è blocchiata, però. 361, costo. Richiede gado emporio 2. Velo. Questa è un costo. Poi è tutto blocchiato. Ah, vedi. Quindi abbiamo bisogno di quello che sembra tipo legno, praticamente. In maniera tale che se saliamo poi di livello, possiamo poi, credo, acquistare altre cose. Secondo me siamo ancora troppo all'inizio, eh. E bisogna ancora sbloccare altro. Perché ancora non c'è stato... Non c'è... Non ci hanno chiesto niente. Questa è una cosa che succedono qui. Questa è una cosa che succedono. Questa è un'area è dove le magisteri di Vincenzo di Vincenzo di Vincenzo di Vincenzo di Vincenzo di Vincenzo. Questa è una cosa che succedono durante la guerra. E ora? Cosa che la sua scuola ha fatto, ha scurato tutto. La scuola di Vincenzo di Vincenzo di Vincenzo di Vincenzo di Vincenzo di Vincenzo di Vincenzo. Allora... Per migliorare la questione del mercante, praticamente. E questi? No. Ma non penso che cadiamo, no? Ma mi state seguendo? Sto andando da sopra. Agile. Ok, qua. Mi sto capendo niente. Occhio, occhio, occhio. Da questa parte... Speriamo di capire perché... Mi sembra come se ci fosse qualcosa. Sì, a me sta anche bene, però ho visto. Vabbè, credo che sia un po' troppo presto per tante cose, quindi... Seguiamolo, vediamo. Sì, è vero che sei un po' di questo? Sì, è bene. Ho bisogno di riuscire in la combina. Allora, andiamo. I've never seen fog this thick in Demetta's crossing this isn't right the dock usually has people bringing goods to market bartering and shouting it's always busy something happened here stay sharp it's so quiet too quiet where is everybody a me these cose spesso mi preoccupano perché poi all'improvviso c'è sempre un brusco rallentamento it's market day people should be out selling eggs and buying bread but everything's just abandoned they barricaded the main entrance into town to keep something out to keep something in it's blight even worse than in the forest no you okay what happened here keep them inside listen to the mayor hello everyone has to stay no you can't leave hey can you hear me just stay here someone used powerful magic to dominate the minds of these villages resta qui andrà tutto bene ormai è troppo tardi and see what we can find and see what we can find and see what we can find pensiere come stretto però perché così stretto crede lascia vedere non vai la pena oh tessuto quindi che è successo che è successo Era una contadina. A me non ci ha fatto niente. Vai. Come è che è così stretto e angusto? Oh, vedi la gente appesa, eh? Cazzo, però non incominciamo che non si vede niente, eh? Ok. L'abbiamo già distrutto, credo. Ciao ragazzi. Per passare. Che è successo? Ma com'è stretto? C'è proprio veramente tanto stretto. Anche troppo stretto. Melva! È uno dei tuoi vicino failjumpers? Bellara Bellara Jahel, he's alive Bellara We're going to help you We'll get you down, Jahel No, Luton The gods The gods have returned I saw them I heard their voices The gods did this? A blood ritual To release the Blight The villagers They said they needed power Bellara Be careful Oh 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 Che cavolo Ok Va bene Ok Andiamo Che sentito uno lamentarsi Può chiedere aiuto Help me, hurry Fresh blood A hungry heart Creature, come to me I know you, you're the mayor of this town The village, the people Are they, uh... Blighted, dead, all of them You gave them to the gods, didn't you? Didn't you? They were in my head Infecting my thoughts, they made me do it Please, help me You're not going anywhere until I get the full story I tried to protect people You have to believe me The gods told me to lure the Veiljumpers to the center of town The others were to be rounded up and kept safe They would be the first to witness the glory of Gilanein's new creation She showed me gold So much gold All this for gold, the villagers, the Veiljumpers, the Blights everywhere Domenis Crossing is dead because of your greed I didn't know You don't understand what it was like to hear those voices The gods exploited his greed and fear I'm supposed to feel sorry for him? I say we leave him right here But I'll die The Blights everywhere What if the dragon comes back? If we let you go, you'll run straight back to the gods They were in his head Their influence might linger I understand what they do now I won't be tempted again, I swear Rook Eh, che cosa possiamo fare? La morte lo... Lascia la promessa al suo destino Eeeh Va bene, voglio essere buono questa volta, dai Let's get him out of there What? This entire village is dead because of him I know Then why spare him? We don't kill people, not like this We're not murderers, we're not like the gods Thank you I didn't ask for your gratitude La morte ti prenderà nel sonno comunque If I may offer some advice Steal yourself I felt their power The promises they make It's irresistible Then try harder next time Don't make me regret saving you Yes, of course But you should be worried about the rest of the world Or this will be our future Ma loro che ti hanno promesse? And the gods were free Thanks to Solas They'd woken up to find their empire Their subjects Even their fellow gods All gone But they still had the power of the blight And corrupting a village Was just the start They made plans to tap more of the blight All of it To rebuild their empire As a path to power It had its costs And everyone Would pay for it I'm a big idea I think I'm a big idea I think I'm a big idea I think everything would be paid I think I'm a big idea Allora Come si fa il viaggio? Sì, di qua Sono anche curioso di capire Quanto rapido sia sto viaggio rapido Facciamone anche i tagli Così vediamo di capire anche Ok, è rapido, è rapido Elgarnon and Gilanane sacrificed them in some kind of ritual Creators What about the rest of the village? The ritual spread blight everywhere The entire village was overrun The few who survived are controlled by blood magic Their minds are gone Elgarnon and Gilanane use them like puppets I dare say it was a show of force They will not rest until you are on your knees Fearful, cowering Helpless in the face of such power Lady Morrigan? Tis simply Morrigan to you, Scout Harding What a pleasure to see you again Rook, this is Morrigan An old acquaintance I thought she could help Morrigan helped the Inquisition When Varric and I were part of it She knew more about ancient magic Than anyone Except Solas T'was both pleasure and necessity To help then As it is now Stopping Elgarnon and Gilanane Shall require many hands Then I look forward to your help How refreshing Your cooperative nature is appreciated in return What can you tell us about All this? As dangerous as Solas himself may be His imprisonment of the gods Was just To leave them unchecked Would have been the very end of Thedas This is our fault When we interrupted Solas' ritual The gods escaped Would those feelings not be better used To put things right? But how? Set aside your notions of godhood And see them for the ancient Powerful mages they are Standing against them Shall require serious magic Of your own When you interrupted The Dreadwolf's ritual Did you happen across Any of the tools he used? He had a dagger But it got lost in the chaos Then you would do well to find it It is better in your hands Than those of the gods Is there anything else Solas might have had That could help us? We're in his Well He calls it The lighthouse Ah Yes The legendary sanctum Of the Dreadwolf Tis said His Eluvian The Viravas Could travel to any other Eluvian of his choosing That's not how it works right now It only goes to Arlethen I can take a look at it Maybe fix it even I know Eluvians better than most Any help you can offer We'd appreciate If Eluvians even work the same way All the magic is different now Our gods are back Our gods And they're killing people And blinding the world How do we stand up against that? None of us can do this alone But we can stop them together Ballara Ballara You're one of the only people In the world Who can get our Eluvian working Harding can track down The Lyrium Dagger And Nev can spot any clues We might miss That give us more information Let's get to work There's a lot of fight Ahead of us Indeed Prepare yourselves well And have a care In your choices These are the times In which legends are born Or slain In this battle I shall render Whatever assistance I am able Right Let's move E' bigger the power It va bene così Dopo aver negato la squadra Sckerto che gli dei Avevano devastato la città La corruzione Vabbè peggio ancora Vabbè 900 punti Forza I'm gonna be Agendamento del codice Legamo aumentato Legamo aumentato Legamo aumentato Legamo aumentato Con tutti Trovo il pugnale, pala Garlink sul luogo del rituale Siamo sempre a sapato il diario, il diario, ogni volta che apri il diario vedo sempre dopo praticamente Vediamo un pochettino Da qua non ci conviene andare, comunque, pala Garlink Varric? Varric knew the risks, he knew what it might cost We're still standing! The fight's not over! You know, I like that about you, Lace You don't stop fighting, you push for answers and action While I can get stuck on questions forever Well, we need someone who can put the pieces of the puzzle together We're fighting the unknown Exactly Everyone has a part to play Varric brought us together because of our strengths He wanted a team he could rely on We have to be that team Play to our strengths And rely on each other Ok, I think I can manage that Then let's find Solas' dagger It'll be a start Let's find Solas' dagger Let's find Solas' dagger Let's find Solas' dagger Non mettono, non tolgo niente Mi fanno soltanto incazzare In modo che... Sapete che questa parte vi ricorda... La zona di Origins? No, no Che si entrava così? No, va bene Dobbiamo scendere Guarda There's magic lingering in the spot Strong Old The dagger was here Something took it Villa Darkspawn Oh no, what if it took the dagger? Only one way to find out Guarda, there goes Allora, aspetta Perché qua abbiamo aperto Abbiamo fatto il gi... Ma come abbiamo fatto il gi... Da qua e di là Ah, perché si poteva salire Madonna santa Mi sto inebetendo Allora Che è da qua? Arriva una leva, pari Allora, vediamo un po' Questa che ce l'abbiamo Ho capito il ca... Vabbè Sì, però... Non mi ha fatto capire niente Cioè, nel senso... Vabbè Uh uh Là c'è un forzire Cioè, attaccato Bello, bello Però... Era un po' ingestibile Come situazione Allora Ok Dovremmo cercare di capire Come c... Solo Ok Non mi fate cadere Che mi incasso Come una bestia Però là C'era un forzire Andiamo di capire Come cavolo Lo possiamo aprire Da questo Non ho capito Ah, ok Forse così Forse così Ok Penso che da lì Possiamo entrare E prendere Il nostro forzierino Che ci darà Che ci darà Tampata d'olio Oggetto prezioso Pensavo che ci iniziasse a dare qualcosa Non più sostanzioso O ne c'è niente L'ho fatto Non ho capito bene Cosa l'ho fatto Ha fatto tipo Una sorta di salto Punto panoramico Un po' strada Sì Questi stavano così Nascosti all'improvviso Ci hanno pregato Un momento Perché Perché il tempo Ma Ah no Perché non ci abbiamo Ah sì Ok Quello di sopra Bilanciamento Esegui Attacca Con Con questo Dangendo i nemici Riempi la loro Barra di sbilanciamento Una volta pieni I nemici diventeranno Sbilanciati Vabbè sì Ok Ok No faccio Że non è stanno Out Ok 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 Mi ha parato, mi ha parato Ok Allora, comodo la mossa Alcuni punti a volte non si capisce un ca... Eh, non si capisce niente Questa si rompe dentro, eh Non si capisce di rendere vulnerabili l'ostacolo Vulnerabili l'ostacolo, vabbè Eh, volevo vedere un attimo se tipo qua intorno C'era qualcosa, perché ancora non ho capito se queste piantine Si devono vendere o possono servire A qualcosa Tipo i cristalli Queste cose che stiamo raccogliendo Magari un domani Sapremo che Abbiamo Intrapreso la scelta giusta Ottenendo risultati migliori Però facendo questo Poi avremmo commesso gravi errori Perché non abbiamo capito niente Allora Di qua si scende, di qua si vanno No, no, no Eh Stiamo un po' fuori controllo Due cristalli Allora di qua Ok Quindi vorrei che magari Qua penso che ci siciliamo Però si, infatti Allora di qua Allora di qua Ah mi sa che quello devo rompere Forse ce n'è ancora Ce n'è ancora Aspetta, vedi ce ne sta un altro Allora Un momento Cioè perché io si rompo Questa si rompe E si toglie Oh c'è Ah ok Sta qua Allora ce la portiamo presso Si Il vaso Posiziona E andiamo Una cosa mi trovate d'accordo Per esempio La scelta del percorso Stretto Obbligato Non è che mi entusiasma tanto Aspettavo tipo che La mappa si allargasse Man mano che andavamo avanti Invece Sembra che ci stringiamo Sempre di più Bella sta botta Ok Allora vediamo un po' Stai qua a dire Stai Arriva La sembra tutto chiuso Ah ma credo che dobbiamo fare la stessa cosa di prima Orientamento del fascio Eh si E apriamo tutto Va bene così Ok Ok C'è l'altro Come arriviamo là sopra Forse da qua Ok Perfetto almeno Qui ci siamo becchiati Anche questa Potrebbe Non essere Fatto male Dai dacci qualcosa di bello Non ci da sempre robetta E la lampada Ah Ascia Ascia Mi incisa Al predone Lo tolgo perché Per adesso fa schifo Cioè è brutto Ok Però lo mettiamo E poi Fammi vedere Che bello Ma non ho visto Le caratteristiche Allora più 9 C'ha più stordimento Sbilanciamento Scusate Praticamente perdiamo In danno fisico Ma abbiamo più Dai lo metto Dai Sembra più carino Questo Ascia Modifica Ma perché Ah E' quella Due mani Ok Però a me piace Sempre combattere Un po' più così Non fa niente Andiamo un altro Poco avanti E vediamo Da qua Ce ne dovrebbe stare Ma che bene Non ce l'ha data La prozione Adesso stiamo Sbloccando Un sacco di Cioè di forzieri Forzieri Sblocco di questa io lo capivo che sembrava una buona arma abilità eh ok che rallenta il problema è che tendo ancora un po' a guardare le abilità perché non me le ricordo bene l'altro ok per adesso oh ciazzo madonna santa l'ho visto all'improvviso ragazzi infatti come me che stavamo cadendo come veramente bisogna seguire tantissimo perché c'è un sacco di buchi e buchi e buchi e buchi e poi piglia pensa che qua dobbiamo raccogliere non ho visto niente ma dubbio che non esca qualche boss e chi con un'armatura media come un'armatura media qui siamo più belli però almeno per adesso questo pugnale si farà sbattere parecchio secondo me questo deve essere il ghoul che siamo attrappando meglio sperare che ancora abbia il dagger oh 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 ah recuperado Lirium Harding? Harding! Ok abbiamo capito che Harding ha la sfortunata del gruppo La Chirra e la Proclamazione Issa to know I am We are Free again Free again Here again Here again Harding! I can hear it The song of the stone What is happening to me? Oh What the? Diventa da di forte Oh piazza Are you moving those rocks? I don't know I don't know how to run Inneschi detonatori Allora Combina inneschi detonatori per scatenare delle detonazioni Ah Devo farlo così Si Ma Ho fatto per la combo non è che mi è chiaro Non è che No 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 Okay Allora Crede cadere giù Non cadere giù che ti cazzo Nesta volta che arriva Non cadere che cazzo sta ok buono vai aspetta un attimo no qua non c'è niente mi sa che forse è meglio che ci puliamo grande corpo lontano ok ok dove è andato dove è andato questo ritorna questo ritorna porca di quella paletta non lo vedo più andiamo di là ecco l'ho preso un altro questo ci sta rompendo e dando anche come andiamo al mittente combattimento abbastanza ciccio eh che la 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 Si sa come funziona la questione poi del viaggio rapido tornando al faro Gli altri perchè abbia poi dove ci fa ritornare Come potete essere orgogliosa? Non so come è stato fatto È tutto un po' strano Ma non in una buona forma Mi sento... Connectata Con... 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 Dwarves call ourselves... I trust you have all this handled. You always have things handled. I just hope I can use this magic to do what's right. I have faith. I'll send word to the Grey Wardens about the blight we saw, and then I'm gonna lie down. And we need more answers about what the gods are planning. I'll find some place to relax and try to reach Soulless in the fate. Good luck. Try not to let him get to you. It feels like we're finally making some progress. And I'm not sure what my new magic is about, but I know it feels right. All right. With their eyes on the Dreadwolf and the gods he set loose, they couldn't see their own personal demons coming to haunt them. Harding told herself it felt right. She was connected to the stone, to the lost Titans, and all of Dwarven history, with its buried secrets. How could that be anything but good? All right. Caricolo completato. Oh, arco corto per Alin Vabbè No, lei ha recuperato qualcosina Possiamo trovare un posto per cercare di parlare con Solas Ok, sesto livello, perfetto Unico, unico, parla con il terribile lupo Trovo un posto per metterti in contatto con Solas Vabbè ragazzi, io penso che questa parte comunque la possiamo terminare qui Ci vediamo nel prossimo video Bye Ciao 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 Ciao